Ehi Pipo, ciao ehi Topolino dove stai andando? Oh sto andando a trovare Minnie nel suo appartamento. Oh ragazzo, quella Minnie Mouse sta fumando. Lei lo è sicuramente. Aspettare, aspetta, che cosa? Oh sì, quella ragazza è in fiamme. Ora guarda qui. No, guarda lì. Fuoco? Pippo! Mantenere la calma! Chiamare per aiuto! Aiuto! Sto arrivando Minnie! Oh signora, 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 non può entrare lì. L'edificio è in fiamme. L'edificio è in fiamme. L'edificio è in fiamme. L'edificio è in fiamme. Signore, signore, svegliati. L'edificio è in fiamme. Fuoco? Signora, l'edificio è in fiamme. E il latte è in fiamme. E il latte è scaduto. Ho detto! Il fiamme è fuoco! Fuoco? Fate fate oh 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 oh. Sto arrivando mini Tuppulino salva i miei bambini Salva anche i miei bambini I miei bambini I miei bambini Mini Oh go Mia Eh viva Uhuhuhu Mini Cosa 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 facciamo adesso topolino Tutti ascoltare Ho bisogno del tuo aiuto Vai topolino Sì topolino Sì topolino Lotta Lotta Così vicino ai pube Ah ah Mini Oh ciao topolino La cena La cena La cena è quasi pronta Oh Siediti Divertiti Ho potato aiuto Ho potato aiuto Grazie a tutti Grazie a tutti